Ed ora parliamo del Book Boom Festival, con noi il direttore artistico Francesco Curci. Ciao Francesco. Ciao, grazie. Cerchiamo di spiegare subito cosa offre questo festival. Beh, intanto per noi è già importante parlare di festival, perché la parola festival per noi è sinonimo di un'idea, di un progetto legato a un certo tipo di musica, quindi la direzione artistica che ho condotto, ma anche con la collaborazione di altri membri dell'associazione Book Boom, ha avuto proprio questo ruolo, dare e definire chiaramente qual era la nostra idea di festival, che è fondamentalmente basata sulla canzone. Sulla canzone dei nostri tempi, quella che risale un po' alla tradizione cantautorale italiana, che oggi possiamo riconoscere invece in quello che solitamente chiamiamo il movimento indipendente, che sono coloro i quali hanno ereditato questo patrimonio di canzoni, l'hanno trasformato negli anni, producendo quelle che oggi a nostro avviso sono delle canzoni altrettanto valide, altrettanto importanti. Ecco, tu hai parlato appunto dell'associazione, quando nasce e soprattutto l'obiettivo. L'obiettivo dell'associazione è proprio questo, di costruire un nome legato a Book Boom, che sia anche sinonimo e garanzia di qualità della musica. Oggi purtroppo riscontriamo sul territorio, ma anche altrove, la difficoltà di offrire spazi per la musica originale, per la musica indipendente, per la musica scritta dagli autori stessi. Quindi vediamo un proliferare di cover band, di tante simulazioni ed emulazioni di musica. Noi invece vogliamo spingere e continuare a puntare sull'originalità e sulla canzone in lingua italiana fondamentalmente. Francesco, in realtà il festival è già partito il 22 luglio, si concluderà il primo settembre. Diamo un'idea ai nostri telespettatori. Vedo un'idea di programma che avrà nel centro, appunto, dai prossimi appuntamenti. Vecete Bolgi, una band di Monopoli, che esordisce quest'anno con un EP in lingua italiana, dopo aver scritto in lingua inglese per molti anni. Quest'anno si propongono con questo nuovo EP, che a nostro avviso è un bellissimo lavoro, che ha avuto anche delle collaborazioni importanti. Quindi partiamo da due pugliesi, Valentina Gravili, che ha già suonato venerdì scorso, 22, e invece di Bolgi, invece di Monopoli, sono due, a nostro avviso, talenti pugliesi della canzone. Poi invece ci spostiamo, 4 e 11 agosto avremo due gruppi che vengono fuori regione, i Criminal Jokers da Pisa, che cantano in lingua inglese, ma abbiamo comunque voluto avere un gruppo che, anche che pur cantando in inglese, per noi rappresenta qualcosa di legato comunque alla canzone, alla forma canzone, sebbene in lingua inglese. Quindi un trio molto potente, devo dire, con idee molto chiari, molto giovani, molto talentuosi. Poi invece, Lievamon Amur, un gruppo di Roma, dalla canzone raffinatissima e dal live, comunque importante, vissuto, un live che ha avuto anche riscontri positivi nel panorama italiano. E poi si arriva alla serata a clou, diciamo, che è quella che per noi è quella che si svolge nel cortile della scuola Positano di Noci, in cui si divideranno il palco in Non voglio che Clara, gruppo bellunese di matrice puramente cantautorale, di una raffinatezza e di un'eleganza nei testi che ha colpito noi dalla direzione artistica, ma non solo, tanto che Rock It, la più grande rivista di musica indipendente in Italia, gli ha nominato il loro ultimo album, il miglior album del 2010, quindi questo e poi No Braino, che sono un gruppo di riccione dalla teatralità e dall'ironia sempre presente, che sicuramente ci regaleranno un'altra esibizione perché loro hanno già suonato a Noci alcuni anni fa e hanno catturato l'attenzione della gente. Sicuramente molti dei Nocesi sono innamorati, quindi sicuramente sarà un ritorno che verrà accolto con grande entusiasmo dai Nocesi in primis, ma anche da tanta altra gente che poi li ha scoperti, perché è un gruppo che ha partecipato anche alla trasmissione della Dandini, per dirne una, ma che ha girato tantissimo e ha suonato moltissimo in tutta Italia. Altro luogo importante è il Villino. Il Villino è molto importante per noi perché, come abbiamo scritto anche nella presentazione di questo festival, è il cuore pulsante di questo festival, è il luogo dove tutto è nato e in cui ancora oggi si svolge il 90% dell'attività di Bucoboom. Quindi invitiamo chi non ci è mai stato a venire a far visita perché è un posto pensato, ripensato, perché naturalmente è una struttura del 1811 che quest'anno festeggia i suoi 200 anni, ma che si presta davvero alla musica, ad accogliere la musica. I riscontri che abbiamo avuto negli ultimi anni sono soprattutto la parte dei musicisti, di chi è salito su quel palco e ha avuto il piacere di suonarvi, sono positivi, quindi è un posto dell'atmosfera speciale, qualcosa che con la musica si sposa suggestiva, si sposa perfettamente con l'idea che abbiamo noi di musica, di festival. Bene, per chi volesse partecipare? Per chi volesse partecipare, noi abbiamo, i nostri comunicati stampa stanno girando un po' su tutti i canali, su molti portali pugliesi non siamo presenti. Il nostro sito è www.bucoboom.it dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie, siamo anche su Facebook cercando Bucoboom o Villino Bucoboom anche, abbiamo questi due profili, basta cercarci, telefonarci, ci sono i nostri numeri di telefono, siamo pronti a dare tutte le informazioni. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.